L'editore del libro Pente d'Attilo nella storia, dall'origine a Sanghetano Catanoso, l'editore Roberto Laruffo. Buonasera. Buonasera. Un incontro molto importante in cui si evince la storia di Pente d'Attilo e sono stati elencati con molta importanza da un punto di vista storiografico i vari atti, le interviste. Quello che volevi chiedere è come mai hai deciso di pubblicare questo libro? Beh, intanto perché raccoglie nuove testimonianze, nuovi documenti per ricostruire, per costruire, per arricchire la storia di questo borgo. E poi comunque rientra in un programma partito quasi vent'anni fa, quando ci siamo noi come casa editrice avvicinati a Pente d'Attilo, quando Pente d'Attilo non era quella che è oggi. Oggi si può venire a comprare un gadget, si può andare a un bar, ci sono le strade tutte rifatte. Ecco, oggi Pente d'Attilo è diversa. Vent'anni fa non c'era nulla di tutto ciò e noi, con l'aiuto naturalmente di qualcuno del posto, dallo stesso Toscano, ma lo stesso Pasquale Frachia, vi dicendo ci azzardammo vent'anni fa a fare una guida turistica su Pente d'Attilo, quando ancora Pente d'Attilo era fuori dalla portata di tutti. Gli stessi reggini non conoscevano Pente d'Attilo. Quindi credo che comunque vent'anni fa abbiamo fatto un passo interessante, importante per iniziare a farne parlare. Oggi noi continuiamo a lavorare su Pente d'Attilo, abbiamo cinque pubblicazioni e ci tengo a sottolineare senza nessun contributo pubblico di questo o di quell'altro ente, senza fondi di questo o di quell'altro ente, ma l'abbiamo fatto sempre investendo a titolo personale e credendo in questo posto, è un posto che promuoviamo ovunque. I nostri libri su Pente d'Attilo sono in bella vista al Bookshop del Museo di Reggio Calabria. Tutti i turisti che vengono a vedere i bronzi vedono i nostri libri su Pente d'Attilo, comprono i nostri libri su Pente d'Attilo e vengono qua. Quindi senza appunto cercare di vedere come approfittare di questo o di quell'ente pubblico che magari largisce contributi, noi crediamo in Pente d'Attilo e lo facciamo a titolo gratuito, cercando naturalmente poi di recuperare i nostri investimenti. investendoci in prima persona e penso che comunque da vent'anni facciamo la nostra parte per questo paese e che pertanto questo libro rientra in un discorso molto più ampio e siamo contenti di averlo pubblicato, di aver conosciuto il professore Bagnata e speriamo e cercheremo sicuramente di dare un impulso affinché questa pubblicazione possa girare per i nostri siti ma anche fuori dalla nostra regione e valorizzare ulteriormente il soborgo e comunque in vent'anni ha fatto dei passi notevoli, è entrato di diritto comunque nei circuiti di un turismo superiore a quello che poteva essere quello di vent'anni fa. Dunque è un lavoro molto attento che dura nel tempo e ci sono state delle soddisfazioni? Ma ripeto, siamo convinti di aver fatto la nostra parte in silenzio senza tanti rumori e riconoscimenti pubblici ma facciamo la nostra parte per Pente d'Attilo e continueremo a farla certamente. In un periodo di crisi in cui è difficile per tutti, anche per l'editoria, ha scelto di pubblicare questo libro in cui si evince la volontà di far prevalere la bellezza di uno dei borghi antichi più belli dell'area grecanica. Ma anche nei periodi di crisi a noi non piace piangerci addosso, anzi cerchiamo proprio in un momento difficile di inventarci qualcosa per andare avanti sempre con lo stesso entusiasmo e quindi diversificando, cercando di trovare soluzioni nuove e andando avanti lo stesso anche nei momenti difficili. Quindi amiamo questa terra e lavoriamo per valorizzarla. Dobbiamo anche viverci del nostro lavoro, cerchiamo naturalmente di far sì che l'aspetto dell'amore per Pente d'Attilo e per tutto ciò che rappresenta la nostra provincia e la nostra regione si accosti a questo amore anche un minimo di capacità commerciale che non può ovviamente venire meno se vogliamo vivere di questo lavoro.